Sardegna quasi un continente non è semplicemente uno slogan ma una realtà un'isola che ci incanta con vari aspetti e una storia millenaria. Nex Sardegna è il canale che promuove questa terra meravigliosa e mette in evidenza gli aspetti di sviluppo economico artigianato, agricoltura, industria, commercio, ambiente, turismo, archeologia, cultura e tanto altro. Nex Sardegna guarda avanti con l'ottimismo che quest'isola merita.